Musica Pieno appoggio all'Ucraina, finché non sarà possibile un negoziato. Tutte le armi date a chi è gradito sono difensive. Così Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Zelensky a Kiev. Questa mattina la visita della Premier a Buccia e Irpin, luoghi simbolo dei massacri e della resistenza alle forze russe. Discorso di Putin all'Assemblea federale. È stato l'Occidente a iniziare la guerra. Ne va della nostra esistenza il Presidente Biden da Varsavia. Non c'è solo in gioco il successo e la sopravvivenza della nazione ucraina, ma l'ordine internazionale. Aumentano nel nostro paese gli sfratti per morosità. L'Unione Inquilini lancia l'allarme. Sono mezzo milione gli sfratti, di cui 150.000 con titolo esecutivo. L'affitto assorbe quasi metà del reddito per 2 milioni e mezzo di famiglie. Almeno il 40% delle lingue parlate al mondo rischia l'estinzione. Nella giornata internazionale UNESCO dedicata alla lingua madre, è segnalata la necessità di un maggiore impegno per salvaguardare un patrimonio culturale che scompare. Buonasera dal TG2000. In primo piano la visita a Kiev di Giorgia Meloni che ha incontrato il Presidente Zelensky. Per raccontarci questa intensa giornata del nostro Premier, in diretta dalla capitale ucraina c'è il nostro inviato. Vito De Torre, ti ascoltiamo. Sì, buonasera da Kiev. È stata una giornata che Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio, ha definito emozionante. Emozionante perché più volte il Presidente del Consiglio si è emozionato, si è commossa di fronte alle fosse comuni di Buccia, si è commossa di fronte alla distruzione di Erpin. Sono due cittadine che si trovano proprio alle porte di Kiev e il Presidente del Consiglio ha potuto proprio vedere da vicino l'intenzione, il primo obiettivo dei russi, dell'esercito russo, il 24 febbraio scorso. Cioè quello di entrare nella capitale, quello di sostituire il Presidente Zelensky con un Presidente filo russo. Questo lo ha toccato con mano, lo ha visto Giorgia Meloni. E poi nell'incontro di oggi con il Presidente Zelensky ha cercato di ribadire, di sottolineare l'impegno del governo italiano all'Ucraina. E nella conferenza stampa questo impegno lo ha voluto evidenziare più di una volta, rendendo la posizione del governo inequivocabile. Perché abbiamo sentito proprio all'interno della coalizione di maggioranza più voci, alcune in qualche modo in dissonanza rispetto all'impegno di Giorgia Meloni nei confronti dell'Ucraina. Chi si volta dall'altra parte, chi fa finta di niente, che c'è un'invasione in corso qui in Ucraina, non sta lavorando per la pace. Non solo inviare delle armi a un Paese aggredito significa difenderlo, significa lavorare per la pace. Frasi molto impegnative. Poi ecco Giorgia Meloni, altro punto molto importante, ha detto che porterà a questo suo vissuto l'esperienza di oggi non aver potuto, ad esempio, viaggiare in aereo, ma quindi ha dovuto attraversare tutta l'Ucraina in treno perché gli spazi aerei sono chiusi. E poi quello che ha visto, la distruzione che ha visto, cercherà di riportarlo in Italia e lo condividerà con ogni singolo italiano. Questo ha detto oggi il Presidente del Consiglio. Ma allora andiamo a rivivere, a rivedere la giornata di oggi del capo del governo italiano qui a Kiev, nel servizio di Augusto Cantelmi, servizio con il quale dalla capitale ucraina vi restituisco la linea. Poi arrivò il risorgimento italiano e l'Italia dimostrò di essere una nazione. È un po' simile a quello che accade voi oggi. Il risorgimento italiano, ma anche il miracolo italiano, del dopoguerra, citati dal Presidente del Consiglio Meloni, nella conferenza stampa a conclusione del faccia a faccia con Zelensky, è l'impegno a sostenere Kiev fino al raggiungimento della pace. Ma la pace che vuole l'Ucraina, ribadisce Meloni, in linea con la volontà di Zelensky. Che l'Italia non intende tentennare in questa vicenda e non lo farà. Presidente dell'Ucraina che ringrazia l'Italia e dà anche una stoccata a Berlusconi che lo aveva criticato, non gli hanno mai bombardato la casa, ha sottolineato. E poi l'invito per capire quello che sta accadendo, bisogna venire in Ucraina. Vedere con i propri occhi dunque, lo ha ripetuto in più occasioni il Presidente, con il corso del suo viaggio a Kiev come Bucia o Irpin, le città simbolo della resistenza ucraina. Penso che l'abbia visto come me i fiori con i peluscia. È diverso, vale la pena di capire. La città che non si è arresa, come si legge nella medaglia consegnata al Presidente del Consiglio. Bucia ha pagato a caro prezzo la sua resistenza e Meloni depone una corona di fiori sulle fosse comuni. Sarremo dalla vostra parte fino alla fine. A Irpin, Meloni lo ha scritto sulla bandiera della città, rasa al suolo dalle bombe di Mosca. Meloni è giunta a Kiev intorno alle 10.45 di questa mattina, proprio mentre Putin parlava a Mosca. Dopo un viaggio in treno durato tutta la notte, al suo arrivo viene accolta con un mazzo di fiori. Ha detto di essere a Kiev per vedere con i propri occhi un popolo che si batte per la libertà e per capire cosa serve agli ucraini. E oggi sul conflitto russo-ucraino sono intervenuti sia Putin da Mosca che Biden da Varsavia con punti di vista totalmente differenti e per ora assolutamente inconciliabili. Ci riferisce Antonio Soviero. Un anno fa il mondo temeva la caduta di Kiev, ma Kiev resiste e soprattutto continua a essere libera. Joe Biden parla a migliaia di polacchi presenti nella piazza del castello reale di Varsavia, ma si rivolge a Putin. Abbiamo difeso la democrazia e il diritto delle persone di vivere liberi. Continueremo a difendere questi valori a qualunque costo. L'Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia, scandisce il presidente statunitense, che torna a definire il capo del Kremlin un dittatore. Con la guerra di Chiara Biden, le democrazie si sono rafforzate e gli autocrati si sono indeboliti. A loro possiamo dire solo no, non vi consegneremo la nostra libertà. Poi, replicando alle accuse di Putin, afferma, gli Stati Uniti non stanno cercando di distruggere la Russia. L'Occidente non vuole attaccare la Russia. La guerra è una tragedia e continua per scelta di Putin. Stamane, il presidente russo aveva infatti nuovamente accusato l'Occidente. È in gioco, afferma il capo del Kremlin, l'esistenza stessa della Russia, che voleva una soluzione pacifica in Ucraina, ma è stata ingannata da carte false e ora continuerà l'operazione speciale. Poi annuncia la sospensione del trattato START sulla riduzione delle armi nucleari e minaccia. La Russia è pronta a test sulle armi atomiche. Non le useremo mai per primi, ma se lo faranno gli Stati Uniti, dobbiamo essere pronti. In serata, poi, il Ministero degli Esteri russo apre ad una revoca della sospensione. Ma tornando ai due presidenti, se vi aspettavate parole di speranza e di pace, a tre giorni dal primo anniversario della guerra, potete ritenervi delusi. I Vescovi italiani, aderendo all'iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, invitano a celebrare, venerdì 10 marzo in tutto il paese, una messa per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace. L'alternativa alla guerra è la politica, non la soppressione dei contrasti, schiacciando l'altro, lo ha affermato il Presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi, nella Lectio Magistralis, all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Roma 3. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso. Per realizzare la pace c'è bisogno di formare e diffondere una cultura di pace, una mentalità di pace, un antidoto alla cultura dei muri e della demonizzazione dell'altro, quello che accade nelle guerre, nella risorgenza del potere divisivo delle frontiere. Perché in sostanza l'alternativa alla guerra è la politica, non la soppressione dei contrasti schiacciando l'altro, è la loro composizione attraverso il dialogo. Non c'è pace senza politica. Abbiamo ancora tanto bisogno di profeti e di politici di pace, capaci di indicare la necessità della pace e di tradurre questa in architettura e prassi di pace. Nuove violente scosse di terremoto in Turchia meridionale nel nord-ovest della Siria, ancora vittime e feriti che si aggiungono al già pesantissimo bilancio della catastrofe. Maurizio Dischino. Non hanno pace i rifugiati siriani in Turchia. Prima la fuga dalla guerra a casa, poi il 6 febbraio scorso la devastazione durante il terremoto di magnitudo 7.8 ad Atai in Turchia, dove hanno trovato rifugio. Ieri sera, sempre ad Atai, un altro terremoto. La luce è andata via all'improvviso e la terra ha tremato intorno alle ore 20 locali. La prima scossa di magnitudo 6.4. Dopo tre minuti un'altra botta violenta di magnitudo 5.8 e poi altre 120 scosse di assestamento. Sono il bilancio di ieri di 6 morti e 300 feriti in Turchia, 5 morti e 500 feriti in Siria. Mentre il doloroso conteggio delle vittime accertate dal 6 febbraio scorso è salito a 48.000 morti, 42.000 in Turchia e 6.000 in Siria. La cucina e il bagno sono crollati. Tutta la casa è stata danneggiata raccontata a Bodul Malek il rifugiato siriano in Turchia. Siamo stati bombardati molto in Siria ma non abbiamo avuto paura come adesso. È terrificante specialmente per i bambini. Siamo terrorizzati dopo il terremoto di ieri. Avevamo pensato di scappare e sistemarci sotto un tetto ma potrebbe crollare. Quindi abbiamo dovuto stare sotto una tenda aggiunto Bayan anche lei rifugiata siriana in Turchia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che oggi è iniziata la costruzione di 200.000 case per i terremotati in 11 province del paese. Aumentano nel nostro paese gli sfratti per morosità sono 8 su 10 ce ne parla Luciano Piscaglia. Altre 300.000 famiglie rischiano lo sfratto a lanciare l'allarme e l'unione inquilini che in una lettera ai presidenti di regione e ai sindaci delle principali città chiede sia rifinanziato il fondo sociale affitti e quello per morosità incolpevole. I 300.000 nuovi sfratti si aggiungerebbero ai 150.000 attualmente esecutivi 8 su 10 dei quali sono per morosità. Andrebbe affrontata con misure strutturali ma siccome è necessario anche porre un argine temporaneo al problema è necessario quanto mai ripristinare il fondo sostegno affitto e il fondo morosità incolpevole che con l'ultima legge di stabilità sono stati praticamente azzerati. Secondo il sindacato una famiglia su 10 spende per l'affitto il 40% del reddito e quasi un milione di famiglie in povertà deve scegliere se mangiare o pagare l'affitto come possono testimoniare tanti centri di ascolto della Caritas Servono case o appartamenti temporanei che possono dare un'immediata accoglienza alle famiglie che hanno perso la casa per non spezzare i legami familiari noi affianchiamo le persone per trovare le soluzioni disponibili ma serve un intervento pubblico un impegno del pubblico il solo che può dare una risposta che risponda all'esigenza di trovare case a prezzi accessibili anche dei più fragili l'ordine dei gesuiti ha reso noto nuove accuse nei confronti di padre Rupnik teologo e mosaicista gesuita ora dalla compagnia di Gesù potrebbero arrivare altre sanzioni sentiamo Cristiana caricato 15 vittime dai racconti credibili 13 donne e 2 uomini secondo alcune fonti sale il numero delle denunce a carico di padre Marco Rupnik il gesuita artista finito al centro di uno scandalo che ha scosso la chiesa abusi sessuali e di potere ai danni di donne consacrate e religiose continuati per decenni una nuova dichiarazione della compagnia di Gesù la terza sulla vicenda pubblicata questa mattina sul sito dei gesuiti aggiorna aggiorna sulle novità emerse nelle ultime settimane di indagini condotte da un team di esperti guidato da padre Joan Verschuren per conto della provincia romana della compagnia di Gesù nel testo si legge che le testimonianze fanno riferimento a fatti accaduti in tempi diversi e occupano un arco di più di 30 anni dalla metà degli anni 80 al 2018 quando le prime accuse furono raccolte da un delegato della curia gesuitica e trasmesse alla congregazione per la dottrina della fede il dossier riporta il lavoro di indagine le testimonianze ritenute credibili e fornisce anche indicazioni sui passi che il superiore maggiore della compagnia potrebbe intraprendere si precisa che la natura delle denunce non ha rilevanza penale per l'autorità giudiziaria italiana ma che i comportamenti di padre Rupnik sono gravi dal punto di vista canonico e morale le conseguenze più immediate per il gesuita sono un inasprimento delle restrizioni già in atto gli ha vietato qualsiasi esercizio artistico pubblico in modo particolare in strutture religiose oltre al divieto di qualsiasi attività ministeriale e sacramentale pubblica divieto di comunicazione e divieto di uscire dalla regione Lazio spetterà ora al superiore maggiore decidere sul futuro del gesuita sloveno con una serie di provvedimenti che vanno dall'obbligo di trasferimento alle dimissioni il team aveva chiesto a padre Rupnik di poterlo incontrare ma senza successo verso un riconoscimento della verità il titolo della dichiarazione pubblicata oggi dalla compagnia un impegno che va avanti con un procedimento interno all'ordine Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli Bernard Scholz accompagnato dal Consigliere di Amministrazione della Fondazione Giorgio Vittadini e dal Direttore della Fondazione Meeting Emanuele Forlani Siamo grati al Presidente Mattarella per la cordialità dell'incontro di oggi e per l'attenzione costante che riserva al messaggio di pace e di amicizia fra i popoli del Meeting di Rimini ha commettato Scholz al termine dell'incontro Domani all'udienza generale di Papa Francesco ci saranno anche due attiviste per la pace una ucraina l'altra russa Paolo Fucili ha raccolto le loro testimonianze vediamo Russi e ucraini si massacrano a vicenda loro invece si sono alleate Caterina e Ucraina di Kiev Daria russa di San Pietroburgo fuggita in Georgia perché in Russia racconta la parola guerra nemmeno si può nominare figuriamoci criticare la ritorica bellica governativa o aiutare come fa l'organizzazione di cui Daria e parte il milione se non due di russi già fuggiti all'estero pur di non essere mandati a morire in battaglia dopo già un anno di guerra molto avara peraltro di risultati sul campo all'inizio racconta tutti credevano alla propaganda di Putin adesso invece tanta gente non vuol più combattere né morire solo perché lui lo vuole Daria è in Italia da ieri insieme a Caterina e domani incontreranno anche il Papa sono venuti a dar voce anche a chi su entrambi i fronti obietta in coscienza alla logica dell'uccidere o essere uccisi io voglio solo un'altra opportunità che sia non violenta di proteggere il mio paese reclama Caterina che in Ucraina si spende soprattutto per la difesa legale di obiettori sotto processo e c'è anche chi racconta è morto sfidando il divieto per gli uomini di fuggire all'estero come donne e bambini troviamo un sistema pacifico per far finire questa guerra chiede anche a chi fornisce armi al suo paese sarà un risultato enorme per l'umanità intera non solo per ucraini e russi ricorre oggi la giornata internazionale UNESCO dedicata alla lingua madre sentiamo Marino Caldiero immaginare l'italiano senza dialetti le intonazioni che variano da nord a sud come pure senza l'apporto delle comunità stranieri sarebbe difficile perché come ci ricorda l'UNESCO in questa giornata internazionale dedicata alla madrelingua le differenze che abitano ogni idioma sono una ricchezza culturale conoscerla e parlarla migliora le abilità sociali dei bambini altrettanto importante è il multilinguismo del resto come ci insegna Dante per quanto riguarda l'italiano le differenze che una lingua raccoglie sono veramente tante e sarebbe sempre bene non dimenticarlo la lingua italiana è un meraviglioso vestito tarlicchino ha a che fare con l'identità ma per noi italiani è un'identità che è moltiplicata è un'identità che trova la sua ragion d'essere la sua specificità proprio nella varietà per me la lingua madre è stato un misto di siciliano e di altre lingue di emigranti che parlavano i miei nonni i miei antenati l'UNESCO ci ricorda inoltre che almeno il 40% degli idiomi parlati al mondo sono a rischio estinzione un patrimonio culturale che scompare e che richiederebbe maggiore impegno nel preservarlo ma le lingue sono anche in movimento cambiano si arricchiscono io sono figlia di somali venuti qui negli anni 70 e parlavano giustamente somalo mio padre aveva addirittura due lingue il cimini che è una lingua del Kiswahili che si parlava a Brava e il somalo mia madre è solo somalo quindi in realtà in casa si parlava italiano somalo cimini e io sono nata sono cresciuta in questo ambiente plurilinguistico siamo giunti al termine del TG2000 grazie per essere stati con noi non perdetevi alle 20.55 il film indiscreto con Cary Grant e Ingrid Bergman buona serata grazie per la visione